Durante il documentario di Paul McCartney, torniamo a bomba ad un altro tema, c'è stata una roba pazzesca che mi ha lasciato veramente di stucco e la riflessione la fanno sia Paul McCartney e Noel Gallagher e dicono due cose clamorose per me. Allora, Ringo Starr e Paul McCartney parlano degli anni 60 e raccontano di come negli anni 60 fosse tutto incredibilmente colorato. Dice, sembrava, aspetta, com'è che lo dicono? Usano un'espressione da cinematografica praticamente per il tipo di colori che venivano usati, tipo Technicolor, erano tutti in Technicolor ed eravamo veramente una generazione incredibile. Dice, io sono felice di aver vissuto quel momento, perché credo che nell'umanità, almeno non quella degli ultimi due secoli, non si sia mai vissuto un momento così bello. E un po' devi mettere la parola fine, perché è vero, perché gli anni 70 non sono stati la stessa cosa, gli anni 80 non sono stati la stessa cosa, gli anni 90 nemmeno e da lì in poi c'è stato un calo. Cioè, è vero che noi stiamo assistendo a una degenerazione sempre più rapida, non solo della qualità di vita, ma anche della qualità di pensiero dell'essere umano, della qualità del vivere dell'essere umano, dello stare al mondo dell'essere umano. Gli anni 60 sono stati un momento incredibile. Ora, tutto questo non rispondeva alla domanda, sì ma perché? E la risposta la dà Noel Gallagher in maniera strepitosa. Dice, perché questi venivano dalla guerra? Questi si guardavano indietro e vedevano la guerra, la distruzione. Quindi dicevano, noi dobbiamo per forza ripartire. Cioè, noi non abbiamo niente da imitare, perché tu non puoi imitare nulla dagli anni 10 fino ad oggi, agli anni 60, tu non puoi imitare nulla. Non c'è niente che sia un periodo che valga la pena prendere e clonare o dire può essere un modello per noi. Quindi noi abbiamo vissuto, loro, lui dicevano al Gallagher, lui non l'ha vissuto. Loro hanno vissuto quel periodo, quel momento storico, con la libertà di chi non aveva niente da imitare. Gli anni 70 e tutto il resto hanno dietro qualcosa volendo da cui arrivano e che possono imitare. Questa è una storia completamente diversa ed è veramente affascinante. Ed è il motivo per cui, come gli anni 60, non c'è stato nient'altro. E dicono che, grazie a quello che queste persone hanno vissuto negli anni 60, ci hanno lasciato un'eredità artistica, per esempio musicale, che sarà la più grande e la più alta di sempre della storia. Non sarà mai pareggiabile. Quindi effettivamente, da questo punto di vista, io sono parzialmente d'accordo con chi dice che al giorno d'oggi non mi piace la semplificazione e non mi piace la generalizzazione. Dice che oggi la musica fa schifo. Oggi la musica non fa schifo. E io ve lo dimostro sempre, perché la musica non fa schifo. Sicuramente c'è un fattore di memorabilità diverso, ma anche perché, proprio per l'impoverimento di questa roba che denunciano le scuole pubbliche di Seattle, mi piacerebbe vedere queste cose anche fatte nel nostro paese o altrove, c'è un effetto degradante, c'è una parabola di decadenza. E questo è inevitabile, lo vediamo. Io non posso dire che oggi io viva bene tanto quanto negli anni 90. Non si può dire. Oppure tanto quanto negli anni 80, perché le differenze le vedo e non è soltanto per un discorso di età. Perché io mi sento pischello tanto quanto allora, né più né meno. Anzi, sono iper legato alle cose che vivo. E sono super determinato ad avere nuovi ricordi. Non sono uno che vive nella nostalgia, lo sapete perfettamente. Però mi rendo conto che oggi dialogare con le persone è più difficile, le modalità sono cambiate, tante cose sono diverse ed è brutto perché ti adatti a tutto. Ti adatti a tutto nella vita. La gente così è resiliente. Però questo non vuol dire che adattarsi significhi mantenere alta la qualità, significa semplicemente abituarsi a qualcosa di peggiore. Musicalmente non ne faccio lo stesso discorso, ma mi piacerebbe vedere carriere. Il problema non è colpa degli artisti. Ecco, spesso si va a scambiare una colpa di struttura, con la responsabilità degli artisti che non hanno colpa. Oggi non puoi essere quello che si era negli anni 60, negli anni 70, negli anni 80. Non puoi essere. Non ne hai le... non ci sono le condizioni. Quindi anche se tu hai un grandissimo, il grandissimo dovrà farsi un culo come mai in precedenza per forse non avere neanche lo stesso tipo di carriera. Quindi non è mai... a me non piace la generalizzazione rispetto alla qualità in sé. Oggi la musica è scadente. No, oggi c'è tanta gente che sceglie di fare musica scadente tanto quanto sceglievano di farla scadente negli anni 90, negli anni 10, negli anni 80. Probabilmente lo scadente di allora era un po' meno scadente rispetto a quello di oggi, probabilmente, ma chiaramente quello dipende dalle circostanze. Questo non vuol dire che il qualitativamente alto di oggi sia meno qualitativo rispetto a prima, perché una volta ti veniva raccontato me in una maniera diversa, ti veniva spinto in una maniera diversa, ti arrivava in una maniera diversa, che sicuramente era più affascinante, perché non avevi quell'idea di essere una sorta di Highlander in mezzo al nulla e di dover provare a qualcuno che cosa. Oggi ti affacci al mondo della musica e devi provare alla gente intorno, allo scetticismo intorno, devi provare non solo che tu puoi avere una tua storia musicale da raccontare, ma che tu sei rappresentante di quella stessa scena musicale, c'è uno scetticismo nei confronti della musica in generale. Pensa quanto è più difficile, pensa quanto noi non la rendiamo semplice agli altri. Tu oggi ti affacci e ti affacci in uno scenario dove la gente dice la musica di oggi... Musica di merda. Ok? Pensa te. Negli anni 70, negli anni 60, negli anni 80, questo non succedeva neanche negli anni 90. Nessuno aveva il coraggio di dire, i bumeroni ti dicevano che la musica era di merda, ma erano quelli che al solito li trovi in tutte le generazioni. Ma non c'erano quelle prorogative, c'era la premessa che la musica fosse una cosa bella. E allora oggi non mettiamo al mondo neanche nessuno, perché tanto se lo mettiamo al mondo in un mondo di merda. E molti lo fanno questo ragionamento, purtroppo. Questo vale per tutti. Questo vale per tutti, per chi fa cinema, per chi fa qualsiasi tipo di arte, per chi si cimenta. Per quello non bisogna mai mollare e mantenere altissimo il livello. Altissimo, ragazzi. Non si può scendere da questo punto di vista. Bisogna mantenerlo alto. Ed è complicato, perché purtroppo c'è non solo una condizione intorno che è negativa, che è quella della struttura, ma anche il pubblico che è davanti è mal disposto. È scettico, sì. Quindi è difficilissimo. Io lo so, perché lo vivo sulla mia pelle. Io mi faccio carico, ovviamente, di questi artisti e mi faccio carico dell'andare a scovare delle cose sapendo perfettamente che davanti c'è un plotone di persone a cui devi cambiare la mente. Quando ti va bene. Quando ti va bene. Altrimenti avrai un plotone di persone che la mente non se la vogliono far cambiare, che sono convinti che le cose invece siano così perché oggi è tutto merda. Contenti voi di vivere in un mondo del merda? Io non mi rassegno, anche se le circostanze sono di merda. Io sono resiliente, ok? Resiliente. E quindi non solo mi adatto, ma cerco di trovare anche il meglio all'interno di questa situazione. Lasciatemi la possibilità di farlo, ma serve un cambiamento veramente di testa del pubblico in primis. Perché se voi non avete pretese, e io ve lo dirò sempre, non avere pretese abbassa la qualità. Perché ti danno da mangiare e ti servono da ascoltare o da guardare la monnezza. Vedi, certo tanto al pubblico non gliene frega niente. Allora ecco il discorso di Mussida. La gente ascolta il telefonino. Sì, se nessuno gliene frega niente di ascoltarli in maniere diverse da quello che vi ho detto io. Se non ti interessa. Cioè, oggi chi è un amante della musica che ascolta la musica col cellulare? Nessuno. Però probabilmente oggi il mondo ascolta la musica. Tantissimi ascoltano la musica così perché non sono più amanti della musica. E quello è il problema. Bisogna riportare l'amore nei confronti dell'arte, della musica. Bisogna pretendere. Pretendere. Bisogna dire no, io così non voglio. Mi dispiace. Io ho sta roba qui. Non la voglio. Non la voglio. Sarebbe una buona iniziativa se per quattro mesi o per un anno intero tutti gli artisti italiani in cordata, per esempio, facessero uscire solo su vinile. Io non do nulla allo streaming, ok? Facciamo un piano di contingenza, ci facciamo dare dei... ci facciamo sovvenzionare dal governo in qualche maniera per mandare un messaggio forte. Quest'anno guadagniamo tutti meno. Lo possono fare i grandi, non i piccoli. Guadagniamo tutti meno, ma facciamo uscire solo in vinile. Su streaming non trovate un cazzo. Perché? Perché non vogliamo lo streaming? No. Il progresso non lo puoi cancellare. Ma puoi pretendere condizioni migliori, qualità migliore. Puoi far vedere che puoi fare qualcosa. E questo deve essere però battuto anche dallo scetticismo, perché se non hai un pubblico che poi ti sostiene e dice cazzo che figata, è vero, famolo? Poi purtroppo il famolo te lo sbatti in faccia, perché poi la gente dice vabbè non c'è il suo streaming, quindi non esiste. E quindi, visto che non esiste, non mi interessa scoprirlo. Facile. Grazie. 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 Grazie.